Ciao amici della questione italiana, oggi giochiamo a indovina cos'è. Hello everyone, today we're gonna play Guess What It Is. Vi do degli indizi e voi dovrete indovinare di che cosa sto parlando. I'm gonna give you some clues and you'll have to guess what I'm talking about. Troverete la risposta nei commenti. You'll find the answer in the comments. Ma non balate. But don't cheat. Questo oggetto può essere elettrico o no. Può essere di diverse dimensioni. Ne esistono di diversi colori. Alcune sono profumate. Alcune tengono lontane le zanzare. Si trovano in casa o in chiesa. Non bisogna lasciarle usare i bambini. Un tempo si usava per fare luce. Molte sono di cera. E come ultimo indizio vi dico che si mette sulla torta di compleanno. Che cos'è? What is it? Avete indovinato? Did you guess? La risposta è nei commenti. The answer is in the comments. Grazie per averci seguito. Non vi dimenticate di fare like e di iscrivervi al nostro canale. Grazie per aver guardato il nostro canale. Don't forget to hit like and to subscribe to our channel. Grazie. Ciao. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS